Si chiama A Natale Mai Da Soli ed è uno spettacolo che si terrà al Teatro dei Micheli di Copparo sabato 16 dicembre. I dettagli ce li spiegano gli organizzatori. È la testimonianza di cosa vuol dire coesione, è la testimonianza di cosa vuol dire sinergia. Non a caso lo spettacolo si chiama A Natale Mai Da Soli, la sezione Bersaglieri Fosto Beretta di Argenta, l'associazione Alice di Ferrara e l'associazione Mai Da Soli di Ferrara tutti insieme per un grande spettacolo di Natale il 16 dicembre 2023 al Teatro dei Micheli di Copparo. Poi sinceramente parlando per l'associazione Mai Da Soli la soddisfazione è doppia perché lo spettacolo è a conclusione di un anno semplicemente fantastico dove noi dell'associazione abbiamo festeggiato i 10 anni di vita, 28 ottobre 2013, 28 ottobre 2023, 10 anni di Mai Da Soli. E quale migliore occasione contribuire a far sì che ci sia davvero la possibilità di vivere uno spettacolo di Natale semplicemente fantastico. Nasce un po' da lontano perché abbiamo cominciato a parlarne a maggio di quest'anno, ma nasce proprio nell'intento di far sì che il mondo del volontariato, il mondo delle associazioni, possano fare un qualcosa insieme per tentare di creare, come dicevo prima, quella sinergia giusta per metterci in condizione di essere sempre presenti nei confronti delle persone che se la passano un po' diversamente rispetto a noi. Vedremo sicuramente tre gruppi, tre gruppi importanti. La linea di guida, la linea insieme è creata da Sex Potronieri, però dietro c'è la lema Estense Music Academy, il cui presidente è Sergio Rossoni e che suonerà quella serata insieme ai Potronieri Brother Band. Lì nella Potronieri Brother Band ci sono i musicisti, i professionisti, i docenti dell'Estense Music Academy di Ferrara e poi ci sarà, che canterà con loro, Iskra Menarini. Iskra Menarini ho avuto modo di ascoltarla già due volte, è veramente molto brava, è una gestista stupenda, ha suonato con Lucio Dalla, Dalla era uno che se sceglieva della gente a cantare sapeva quello che stava facendo, per cui Iskra è sicuramente uno dei piatti forti della serata insieme a tutti gli altri gruppi. È stata fatta una scelta anche di scegliere, scusatemi, i Black Roses, che sono giovanissimi musicisti della Maestense Music Academy, che hanno molto giovani, il batterista credo che abbia 8-9 anni, però sono veramente molto bravi e questi fanno cover rock. Poi c'è i Mistress of Rock, che sono un'altra cover band rock di Ferrara, e questi sono un segreto di Saxe Portoglieri, perché non mi ha voluto rivelare niente di più, visto che lui ha preso la direzione artistica e in un perfetto francese ha detto «Kikpens me». L'attività dei Mai da Sole, come dicevo, in questi dieci anni di vita abbiamo raggiunto 145 persone, di cui 65% uomini e 35% donne. Attraverso la struttura Casa Mai da Sole, quella casa in convivenza, dove ospitiamo le persone che per colpa di una separazione devono uscire dalla casa coniugale, nonostante parliamo di un progetto che permette alle persone di rimanere da 0-12 mesi, ebbene nonostante questo periodo lungo sono passate dal 2017 al giorno in oggi ben 37 persone, che la dice lunga di quanto è sempre forte e pericoloso questo mondo particolare e dove davvero c'è un vero attacco alla famiglia. Mai da Sole è il nome dell'associazione presieduta da Stefano, fondata da Stefano, però in realtà Mai da Sole è il modo di far conoscere noi come associazioni. Noi siamo sul palco scenico, come abbiamo fatto mille volte e vi ringraziamo dell'appoggio che ci state dando, noi siamo sul palco scenico per farci conoscere. Chi per far conoscere la propria associazione è quello che fa tipo Mai da Sole. Chi per sensibilizzare, noi daremo dei volantini, noi come associazione Alice per la lotta all'ictus cerebrale daremo dei volantini in cui spieghiamo l'ictus, spieghiamo e conoscere i sintomi, spieghiamo chiamare i 118 e far conoscere le persone, una cosa molto importante. L'altra associazione che è la sezione dei bersaglieri di Argenta è per far conoscere la sezione dei bersaglieri e le altre cose che fanno loro. Il mondo dell'associazionismo, come diceva Stefano, è molto vasto. Riusciamo a essere solamente in tre ad aiutare a fare questa serata all'insegna del conosciamoci. Ecco, Mai da Sole è proprio la linea guida del conosciamoci. Conosceteci in quello che noi facciamo. Noi come associazione Alice abbiamo, credo, salvato molte vite. L'ictus è calato già del 30% proprio per il lavoro che noi stiamo facendo. E come noi, e non dico che noi siamo i più ravi, ma come noi, tutte le altre associazioni nel mondo sanitario, neurologico, medico, eccetera, stanno facendo un lavoro egregio. Ecco, vogliamo fare in modo che la gente ci conosca e sappia che cosa stiamo facendo. Grazie quindi a Lema, grazie a Sergio, grazie a Sax Potronieri, grazie a Iskra che fanno in modo che attraverso la loro voce, attraverso la loro conoscenza, con la loro musica, riescono a passare questo messaggio. Vai da solo perché noi non lasciamo la gente da sola. Ci vediamo il 16 dicembre alle ore 21 al Tirato dei Micheli di Coparo, entrato offerta libera. Vi consiglio di fare un passaggio perché davvero sotto alla direzione artistica del grande Andrea Poltonieri abbiamo messo in piede uno spettacolo che è davvero molto molto bello. Vi aspettiamo numerosi perché il progetto richiede davvero anche il vostro aiuto. Grazie. 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 Grazie.